Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di StumbleGuys Arrivami le like, condividete il video e iscrivete al canale Se non vi lascio il hashtag StumbleGuys qua sotto in un commento Per ricevere un cuoricino e andiamo avanti con questa nuova puntata Vi avviso che questa puntata sarà anche divisa come piccole parti Appunto come short e tiktok Quindi faremo una sorta di doppia puntata Una puntata completa e una puntata per chi la vuole vedere velocemente E in parte non tutta insieme Per gli short Quindi iniziamo Per i ragazzi di tiktok e degli short youtube Premio gratis 3 giri fortunati come sempre giornalieri perché vi piacciono Quindi andiamoli a fare anche perché giustamente non è niente diesoso Però è anche le cose che fate voi Quindi siete contenti molto spesso di vedere le cose normali Per assurdo Intanto le cose normali ci hanno portato 10 gemme Beh, beh, primo giro fortunato non ci dispiace Ok, secondo giro fortunato Giustamente cambio colore in base allo sfondo del gioco perché ha dei colori molto accesi Ok, un gettone? Eh sì, un gettone triste triste, va bene Poi andiamo, terzo giro fortunato E vediamo un po' cosa troviamo Mi raccomando venite sul canale youtube se siete da tutte le altre fonti Mi raccomando canale youtube i febbag Iscrivetevi per le live Altre gemme Ok, dai Mi posso accontentare Direi che possiamo andare avanti Intanto mi prendo Pelle garantita Leggendaria Gobble Gobble garantito Non l'avevo preso e mancavano solo 7 ore e 21 Cioè Mi stavo per far perdere veramente Una skin a 5 gemme Ma non si fa Gobble Gobble Ricevuto Niente male Ok, proseguiamo Io ho completato già tutto il pass In due giorni Neanche Diciamo che non è che sono stato due giorni a giocare eh Quindi effettivamente era così Allora facciamo così Riscuotiamo prima le cose piccole Poi riscuotiamo tutte le skin Ok Quindi snowman epica Vai Ce la prendiamo Snowman epica ragazzi La nuova skin epica del pass E la giocheremo sicuramente in qualche video Vai così Poi abbiamo Da prendere le nostre gemmine Abbiamo da prendere i nostri Ticket Abbiamo da prendere altre gemmine Vai La nostra emote della cacca Molto carina Poi abbiamo da prendere altri gettoni Gemmine Gettoni alla grande Vai con i gettoni di stumble L'emote a forma di Scatolina di Natale Emote pass Passi a forma di scatolina di Natale Gemmine Gettoni stumble Andiamo avanti Riscuoto L'animazione provocazione Che andremo a provare sicuramente Riscuoti gemme Vai con le gemmine È tutto spiano Gettoni stumble Poi Si prosegue Le skin me le sto lasciando come ultimo giro Che facciamo un opening grande Gettoni stumble Ok Animazione Tipo ballettino Probabilmente Intanto arrivano commenti a tutto spiano Vai con le gemme Un emote Let's know Let's know Gettoni Riscuoti passi con il ghiaccetto Molto carino Natalizio Poi abbiamo Gemme Scusate il piccolo taglio Un attimino Dovevo fare un attimo una cosa Un controllo Vai Riscuotiamo Animazione provocazione Perfetto Andiamo avanti Riscuoti altre animazioni Ammazza quante animazioni E poi abbiamo L'emote Di ghiaccio Molto carina E la banana La banana L'andremo a provare oggi Magari all'interno Di un paio di partitine E adesso ragazzi Passiamo ad aprire Le nostre skin casuali Di tutte le varie tipologie Del pass Ok Quindi Saranno Penso 14 Non lo so Andiamo a vedere insieme Skin casuale Si parte col primo giro fortunato Raro o superiore In questo caso Siamo fortunati Da c'è roba carina E mo' una roba doppione Guarda eh Rara Mi sa che già ce l'avevamo Doppione Converti Va bene Riscuoti Comune o superiore Vediamo un po' cosa ci dà Saremo abbastanza fortunati Chi lo sa Lo vedremo immediatamente Ok Una rara triste Una gallina Va bene Ce l'avevo doppione Si Altro converti Proseguiamo Skin casuale Comune o superiore Giro fortunato Vediamo un po' Se siamo fortunelli O meno Vediamo un po' Carta comune Tristezza Non comune Non ce l'avevo Mi sa il maghetto Infatti me lo prende Benissimo così Vai Skin casuale Rara o superiore Open Vediamo un po' Cosa troviamo Mega open Ragazzi Del pass Mamma mia La banale leggendaria Quanta era bella Un'altra volta epica Un'altra volta lei Già ce l'avevamo Doppione Converti in 15 Va bene Continuiamo Skin casuale Oggi questa è una puntata Mega open Tantissimi giri fortunati Ragazzi Per noi Da fare Ok Niente Uno chef Non so se già ce l'avevo No Chef Gordon Skin casuale Rara o superiore Vediamo un po' Quanto siamo Fortunati Ale Non troverò niente Guarda Se me da un'altra volta La leggendaria Già ce l'ho No Questa ce l'ho Doppione Leggendaria doppione Ma che cattiveria Ok Convertiamola Comune o superiore Vai Skin comune o superiore Giro fortunato Non ci credo La leggendaria doppiona Ma che cattiveria Rega ammazza Sti comuni hanno rotto Tre quarti Però eh Ok Non ce l'avevo però Teichler Ok Skin casuale Rara o superiore Vai così Vediamo un po' Cosa troviamo Se siamo fortunati Ok No Quella leggendaria Non la vedremo Epica No Rara Mi sembra che è doppione No È nuova Swamp troll Va bene Proseguiamo con Skin casuale Comune o superiore Vediamo un po' Cosa troviamo Ci siamo Ci siamo Apertura in vista Olè Comune Mi sa che non ce l'avevamo Miner Herber Ok Skin casuale Rara o superiore Vai Speriamo di trovare Roba carina Rara o superiore Ragazzi E si gira Vediamo un po' Niente di eccezionale Epica Mi sa che è un'altra volta Quella No Ninja Rui Non ce l'avevamo Di questa colorazione Perfetto Andiamo avanti Skin comune o superiore Vediamo un po' Oven è veramente enorme Allora Prendiamo l'epica Dottore Mi sa che già ce l'avevo Doppione infatti Converti 15 Ok Si va avanti Raro o superiore Giro fortunato Raro o superiore Mamma mia Quanta rubina ragazzi Mega Opening oggi Ci siamo Epica Niente Rara La streghetta Mi sa che ce l'ha Doppione Perfetto Convertiamo Vai così Raro o superiore Giro fortunato Raro o superiore Vediamo un po' Quanto siamo Fortunelli Vai Gira 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 Che ci dà Il gatto epico Mi sa che già ce l'ho Rara Pinguino ce l'ho No è un altro tipo di pinguino Un'altra colorazione Ok Poi io sono dal tonico I colori Ne vedo Quindi Tutto un dire Giro fortunato Comune e superiore Vediamo un po' Direi che siamo Sfortunelli Di nuovo Non comune Va bene Non ce l'avevo No Sì non ce l'avevo Disco den Perfetto Andiamo su Amica superiore Andiamo un po' Giro fortunato Siamo quasi arrivati Alla fine del pass Vai così Oh mamma mia Quella speciale Quanta era bella Allora Mi sa che questa Già ce l'avevo E mi sa che doppione Vero si Quindi convertiamo Ultima skin casuale E poi ci prendiamo Jacked Rudolph Ok Giro fortunato Raro Superiore Vai così Siamo a posto Epica Ok Questa non ce l'avevo Non mi ricordo Di averla Atena Quindi abbiamo sbloccato Atena E ci prendiamo Il nostro bellissimo Jacked Rudolph Alla fine Jacked Rudolph Ragazzi Da utilizzare In questo periodo Ci faremo sicuramente Qualche video Qualche live Sopra Allora Adesso Io ho finito Questa robina Quindi le parti Sono finite E possiamo andare Ad aprirci 208 oggettoni Che abbiamo Quindi In epiche Vediamo un po' Quante ne posso mettere Con 208 Ne facciamo Ok Ne possiamo fare 5 Ok Allora ragazzi Quindi vi ricordo Per tutti i ragazzi Che sono Da TikTok E da YouTube Short Venite sul canale Perché facciamo Le live Iscriviti al canale YouTube Vai Apertura Per 5 Di skin Epica 175 Gettoni Epica o superiore Ok Panda Già ce l'avevo Doppione Ok Poi Vediamo un po' Che abbiamo Cosa ci dà Vediamo una roba carina Epica Già ce l'avevo Doppione E vai Tutti i doppioni Il giro dei doppioni Ragazzi Robottino Non ce l'avevo No invece Doppione pure lui Ma dai Ma che cattiveria Tutti i doppioni Ragà Atena Doppione Non ci credo Ragà Non ci credo Doppione su doppioni Speciale 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 Nuova E vai Con il giro fortunati Fantastico Ok Allora Possiamo fare altri giri Altri giri Quindi vuol dire Un'altra piccola clip Ragazzi Ricordo sempre Quelli degli short Di YouTube E di TikTok Venite sul canale YouTube Appunto Per fare le live Insieme a noi Vai così Skin epica E la facciamo Per massimo Tre No Due addirittura Che tristezza Due giri speciali Epica O superiore Vediamo un po' Ok Non ce l'avevo Il remesa No invece C'è doppione Altro giro Sono due i giri Vai così Di cattiveria Ce l'avevo già Mannaggia Doppione di nuovo Leggendario Ma non ci credo E questo è continua Ragazzi Posso farne un altro Vai Giro singolo Skin epica O superiore Vediamo un po' Cosa ci esce Dal giro singolo Skin epica O superiore Oggi sarà pieno Di clip YouTube Oh è leggendario No niente Un'altra volta il re No ma rabbio Dai Un altro doppione Ma non ci credo Ma non è possibile Questa cosa Altro giro singolo Vai Leviamo se sta roba Cioè non c'ha senso Desiste Vai così Ok Leggendario Leggendario Niente epica Allora vabbè Non ce l'avevo La principessa Di questo colore Monarch Va benissimo Ok Penso che ho aperto Tutto quello Che potevo aprire Oggi ragazzi E direi Che va bene Così Questo era il video Dell'opening Sarà sia a video Che sia a mini clip In short YouTube Che non arriveranno Nei vostri feed E Anche a TikTok Quindi se volete andare a vedere Su TikTok Ci sono le varie clip Divise in parti Questo era l'opening Di tutto il nuovo pass Sicuramente ci saranno Nuovi video Nuove live Perché la gola Sembra che sia rimessa Quindi ricominciamo Con le live Arriviamo a mille like Condividete le video Scrivete al canale Se no Lascia l'ashtag StumbleGuys Con soltanto i commenti Per ricevere un cuoricino E ci vediamo nel prossimo video Scrivete al canale